Grazie all'impegno dei giovani studenti del liceo Alfonso Gatto di Agropoli si è rinnovato anche quest'anno l'appuntamento con le arance della salute, l'iniziativa promossa dall'AIR per raccogliere fondi a favore della ricerca sul cancro. Allora questo è il secondo anno consecutivo che aderiamo a questa iniziativa grazie alla nostra prof di scienze Gammarano e sposiamo il progetto dell'Associazione Italiana Ricerca Cancro per l'appunto e uniamo l'utile e dunque dare un contributo per appunto appoggiare la ricerca e ovviamente qualcosa di piacevole come ad esempio la vendita di arancia, marmellata, miele che sono cose che possono servire durante la vita di tutti i giorni. Ovviamente sappiamo che per disponibilità economica un adulto può contribuire di più rispetto ad un alunno però molte classi stanno rispondendo bene tramite una raccolta all'interno della classe stanno acquisendo arance, marmellata e miele quindi tutti quanti stanno rispondendo allo stesso modo.